Noi se vogliamo veramente dare una mano dobbiamo darla a chi riesce a chiederci di cosa ha bisogno. Per poter chiedere devono avere gli strumenti, devono avere la conoscenza di alcune cose, ma andare con i piedi di piombo. Non si può andare ad imporre solo perché pensiamo che la nostra cultura o la nostra statua civile, la nostra civiltà sia migliore della loro. Noi forse abbiamo perso nel percorso qualcosa che loro ancora conservano, però è chiaro che ci sono delle cose fondamentali che forse non è giusto che esistano ancora. Però con molta discrezione oserei dire su quello che è la loro esigenza e i loro reali bisogni. Non si può imporre. A me quando questa signora ragazza ha detto, ma è part of my life, con una, non dico rimissione, ma con una consapevolezza di quello che stava dicendo. Quindi ok, ritengo che sia una cosa sbagliata, ritengo che si può fare a meno, a mia figlia non lo farei, però è parte della mia cultura, è parte della mia vita. Quindi non stravolgere, questa è l'idea.